Per favore, prendiamo un lama. Sono da lì. Luka, andiamo? Ok. Qua giù, non è un po' fuori. Eh, mamma. Non fa un tramona. Aglio, non fa un tramona. Io pensavo che tramona significasse tremolio. Ma si può fare un tramona. Ma si può fare un tramona. No, raga, c'è gente da voi? No? Ragazzi, qua ci sono già... Da me c'è un livello certo. C'è gente a vulcano. Ma perché romperò qua sempre i congoloni? Guardate, guardate, è in nato. Mi sono fatto un solo, mi si scelgo. Che, che è? Se non mi fai, non è già compiato. Vieni qua. 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 Grazie a tutti. 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 Quanto vista? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.